scientificast il podcast più ascoltato dai vaccinati siamo arrivati alla puntata 358 ben trovati a tutti a questa puntata 358 di scientificast ai microfoni con voi oggi c'è giuliano e dall'altra parte valeria ciao vale come va tutto bene una giornata dopo una giornata in montagna si sta bene si è un po stanchi quindi non rispondo pienamente di quello che dirò ma va bene così è giusto così io molto bene oggi come dicevamo anche fuori onda ho testato le le piste ciclabili a di genova con facendo un percorso urbano assolutamente rischiando la vita diverse volte ma è stato molto bello il brivido ti è piaciuto il brivido si ci piace il brivido a qua a genova abbiamo deciso di fare queste piste ciclabili un po da folli ma va bene va bene è un primo passo per ma sono utilizzate incominciano a essere utilizzate oggi c'era diversa gente in giro in bicicletta quindi alla fine credo che poi si parla di fare un upgrade si parla di migliorarle quindi anche per voi che ci ascoltate che non siete genovesi e liguri e volete venire a fare un giro in bicicletta sappiate che volendo la possibilità c'è a vostro rischio e pericolo poi in un futuro però sicuramente lo attrezzeranno si attrezzeranno meglio non ho dubbi sono fiducioso e giuliano non vuole dirvelo ma è pagato dal comune di genova per fare pubblicità esatto ho una percentuale su ogni ingresso di foresto ah già perché oltretutto c'è la storia che i liguri non sono molto contenti del fatto se la liguria torna bianca avrà il turismo era meglio quando non c'erano i turisti non ho mai fatti il sospetto che in realtà le piste ciclabili siano un modo proprio per ridurre i turisti nel senso che loro vengono con le biciclette e poi i poverini vengono falciati al primo semaforo e quindi diminuiamo il numero di turisti nella nostra regione ma andiamo avanti con il nostro episodio prima che il comune di genova ci denunci e facciamo un breve sommario di quello che sarà l'episodio di stasera oggi diciamo anche quando registriamo il 30 maggio quindi voi lo ascolterete domani questo episodio proprio fresco fresco non ci perdiamo nessuna non c'è niente di nuovo successo di emozionante oggi o che succederà nella notte o chi lo sa chi lo sa chi lo sa chi lo sa ma noi vi parleremo di ovviamente c'è giuliano vogliamo non parlare di polpi e anche di specie marine esatto un nuovo modo per descrivere specie marine legato in particolare a un polpo ultimamente parlo spesso di cefalopodi devo dire che non sono pesci giusto che non sono pesci mi raccomando c'hai anche un gatto che si chiama seppia tra l'altro quindi cioè che è un cefalopode però per gli generanti sono pesci attenzione attenzione allora andiamo avanti e in questa puntata ci parlerà fabio poi delle tecniche delle misure di sicurezza che vengono prese nelle funivie quindi un argomento molto attuale che ci parrà magari capire qualcosa in più sul sul terribile incidente di qualche giorno fa e per arrivare poi a valeria che ci parlerà ovviamente il suo ruolo ormai lo sapete quello ci parlerà di virus persistenti che non vogliono saperne di lasciare il nostro corpo esatto e quindi ora è giunto il momento di parlarci di iniziare questa storia partendo dal polpo dumbo che già un nome è una garanzia voglio dire il polpo dumbo è una specie che secondo me qualcuno di voi conosce già già sentito nominare perlomeno perché non è una cosa nuova e infatti diciamo che non parleremo di qualcosa dell'argomento di questa storia breve che vi racconto non sarà tanto la specie nuova che è stata scoperta che è comunque una specie molto carina ma di come questa specie è stata studiata e infatti è uscito un paper proprio dedicato a questo nuovo approccio allo studio di una nuova specie allora vi dico due cose sul polpo dumbo tanto perché si chiama dumbo perché ha praticamente nel purtroppo voi non potete vedere il video ma ha sulla sulla testa due e nemmeno vedere giuliano che agita le mani incurante del fatto che sta registrando un podcast a due appendici che lo fanno sembra che si fanno che sembrano un po le orecchie del polpo del polpo del del dumbo dell'elefantino della disney no quindi è stato battezzato polpo dumbo per questo motivo il nome comune è imperor dumbo di questa nuova specie il nome scientifico è grimpoteutis imperator e per gli amici lo potete chiamare tranquillamente polpo dumbo ecco questo senza problemi è un polpo che vive a grandissime profondità intorno ai 4000 metri nell'oceano pacifico settentrionale ed è stato pescato durante una campagna oceanografica di un team guidato da questo ricercatore che si chiama alexander zigler dell'istituto di biologia evolutiva ed ecologia dell'università di bonn che ha fatto una roba fighissima che vorrei fare io ha girato praticamente per diversi mesi con questa nave la sonne si chiama si chiamava la nave e raccogliendo campioni di alta profondità e e hanno trovato a 4000 metri di profondità questo piccolo polpo che ovviamente piccolo 30 centimetri polpo quindi insomma insomma una roba un insalatina ci esce per ogni più ecco quindi non è che non ci facciamo proprio la cena di capodanno e questo polpo di una trentina di centimetri purtroppo non è sopravvissuto ovviamente perché spesso quando si tirano su degli degli organismi da profondità così elevate lo sbalzo di pressione li crea dei problemi a volte gli esplodono delle parti interne o comunque uno scompenso di pressione che loro non riescono a quindi loro vivono costantemente quella profondità sì allora vivono quella profondità o possono anche cambiare la profondità però un organismo che vive a 4000 metri diciamo che non lo vedrai mai in superficie specialmente quando un polpo di 30 centimetri che non ha questa motilità incredibile si sposta ma ovviamente starà su fondali comunque sempre molto profondi infatti tra l'altro è una specie rarissima di cui esistono si sono registrati pochissimi esemplari nel mondo quindi trovarne uno è sempre una una roba piuttosto rara però può essere anche un discorso di difficili difficoltà nel trovarli cioè nel senso non è che vai sempre a pescare a 4000 metri di profondità è vero sì certo non è detto che che non ce ne siano tantissimi a 4000 metri di profondità sono solo nascosti bene sono nascosti molto bene e poi il problema ovviamente di portarli in superficie e che poverini muoiono come spesso cade a molti organismi di profondità è che una cosa è passare da 4000 metri alla superficie magari in due ore no in cui piano piano un organismo si può adattare allo sbalzo di pressione una cosa e magari farlo in 20 minuti per dire magari non so i tempi di risalita di un campionatore di 4000 metri però sono piuttosto veloci quindi ritirandoli su molto velocemente spesso insomma gli organismi non sopravvivono per lo sbalzo troppo rapido di pressione però era arrivato intatto e questa era una buona notizia perché avere un campione a questa profondità intatto che viene su è una cosa abbastanza rara quindi loro hanno ho descritto ovviamente la nuova specie però la cosa veramente innovativa che hanno fatto hanno usato delle tecniche che in precedenza non erano mai state usate per descrivere questo nuovo polpetto infatti allora di solito cosa succede succede che praticamente i ricercatori portano un campione in laboratorio e lo fanno a fette in mille fette e vedono come sono fatti dentro descrivono gli organi fanno dell'istologia su tutto e quindi diciamo che è un procedimento abbastanza distruttivo nei confronti del campione e poi viene il campione viene messo in formalina e tutto un po ricucito la bella e meglio è messo in un museo per eventuali successive analisi ci sono degli organismi che ne hanno magari 100 200 esemplari ci sono magari organismi comuni e quindi per ogni esemplare tu gli fai un'analisi diversa e ci sono organismi invece come questo che sono dei pezzi unici e distruggerlo vuol dire perdere la memoria della morfologia di questo animale vuol dire che se noi tra 100 anni se noi prendessimo questo polpo d'umbo e lo facessimo a fette e poi lo ricuciamo alla belle meglio lo mettiamo in formalina non avrà la morfologia la forma che che aveva in all'origine sarà un po tutto squacquerato termine tecnico proprio sarà chiaro chiarissimo un po rovinato ecco quindi loro hanno pensato perché non usiamo qualcosa di diverso per analizzarlo e allora sono andati dai loro colleghi hanno usato un sistema di risonanza magnetica che si usa per studiare le malattie neurodegenerative e in modo da ricreare buonissima parte del dell'interno del dell'organismo in 3d e non contenti ovviamente c'erano due parti del dell'organismo che non potevano essere viste e ricostruite in 3d da da questo sistema di risonanza magnetica che erano la radula e il becco che sono sono di chitina quindi non si vede molto bene la risonanza magnetica e quindi hanno usato un sistema di tomografia micro compiturizzata che viene usata dai paleontologi quindi loro sono andati praticamente dai colleghi paleontologi e dai colleghi neuroscienziati e hanno usato i loro strumenti per descrivere come mai aveva fatto nessuno prima una nuova specie dando veramente una libreria di immagini incredibili bellissime che descrivono nei minimi dettagli la morfologia la struttura di questo polpo la cosa fighissima che secondo me mette la ciliegina sulla torta e che voi se andate a un link che vi diamo noi che è su morfo bank è un database open source dove loro hanno messo tutte queste immagini tranquillamente disponibili a chi vuole chi è interessato a sapere come è fatto questo organismo dentro e fuori questo è un sito che raccoglie tantissime cose visto che ci sono cose anche legate alla fossili altre nuove specie però il loro intento è proprio di creare una libreria virtuale di nuove specie descritte nei minimi dettagli con tutte le ricostruzioni 3d che tu li puoi usare sia per scopi didattici ma anche per scopi di ricerca in più il campione è conservato intatto all'interno di un museo che adesso non mi ricordo come che un museo di berlino adesso mi sfugge il nome del museo di berlino comunque deve essere il museo di storia naturale di berlino a disposizione ovviamente per chi vuole fare ulteriori analisi nello stato originario sul sito si vede, cioè uno può vedere qualsiasi sezione del corpo, del polpo o anche il modellino 3d esatto, tu vedi in realtà lì ci sono sia le foto, alcune foto, sia proprio la ricostruzione 3d delle varie strutture interne tutte descritte e questo è anche ovviamente il contenuto anche del paper che hanno pubblicato che tra l'altro ve lo leggo il titolo del paper perché è interessante perché è Holistic Description of New Deep Sea Megafauna Using a Minimally Invasive Approach quindi loro hanno proprio focalizzato il paper pubblicato su BMC Biology su questo approccio nuovo alla descrizione di una nuova specie che secondo me potrebbe davvero fornire delle basi per futuri studi che oggi non abbiamo di tante specie che sono state descritte nel passato io quando mi sono trovato a studiare i granchi durante il mio dottorato mi sono ovviamente prima cosa, ti fai una panciata di bibliografia e capisci esattamente come è fatta l'anatomia, la fisiologia di questo organismo come funziona, come si comporta purtroppo le immagini ad esempio e la descrizione morfologica te la devi un po' sempre rifare tu perché poi non hai cose particolarmente concrete su cui basarti in questo caso invece hai delle cose concrete scientificamente solide che possono servire per futuri studi e altre applicazioni che magari ancora oggi non abbiamo neanche idea di cosa ci potrà servire però magari domani lo sapremo questo è anche legato al fatto che comunque sono più disponibili i tipi di apparecchiature per fare questo tipo di analisi anche sui polpi o su altre specie sì, secondo me sono due cose uno che ovviamente ci sono apparecchiature che un tempo non c'erano e questo è ovvio che un tempo non c'erano queste macchine di ressonanza magnetica che magari hanno anche costi più bassi rispetto anche solo che 10-20 anni fa e poi è l'approccio secondo me del ricercatore che negli ultimi 15-20 anni è cambiato e alla fine hanno un approccio più multidisciplinare anche nell'utilizzo dei mezzi cioè io mi ricordo che quando sono andato per la prima volta davanti a un microscopio a forza atomica con un occhio di granchio mi hanno preso per scemo perché loro guardavano in nanomateriali io invece in un microscopio a forza atomica ci volevo guardare un occhio di mezzo centimetro e quindi era una roba strana adesso secondo me è sempre meno strano che uno usi una macchina che solitamente tu ci metti una persona per guardare il cervello ci metti il polpo d'umbo però è un approccio sano alla ricerca secondo me oltre al fatto che mi immagino il dottorando di turno che prima doveva fare tutte le sezioni analizzarle una per una e questo tipo di approccio è meglio per il campione ma anche meglio per l'operatore che alla fine immagino sia anche il più semplice forse anche più veloce come acquisizione delle informazioni oltre che più rigoroso ovviamente e più preciso esatto più semplice e anche più preciso e più duraturo nel tempo quindi adesso aspettiamo di sapere qual è la prossima strana specie che verrà analizzata in questo modo e vi lasciamo fare un giro su questo sito vi lasciamo tutti i link nelle note degli episodi con Morpho Bank che ci sono secondo me per chi è un po' curioso come tanti dei nostri ascoltatori potrebbe diventare un sito interessante ma di che colore è? ultima domanda ma colore è di un un grigio topo sì un grigio topo un po' cangiante perché se uno cerca polpodumbo su Google escono fuori cose strane colorate in maniera sembrano un po' artificiale attenzione ci sono 45-46 specie che appartengono a quelli che vengono chiamati polpodumbo quindi non è solo uno quindi hai tante diverse specie che sono tutte con l'orecchie diciamo e poi il discorso del colore a 4.000 metri di profondità ha un valore? ha un valore relativo ma ha comunque un valore soprattutto perché consideriamo che ovviamente a 4.000 metri tu sei in zona afotica quindi vuol dire che lì non arriva niente di luce però la bioluminescenza è molto presente a 4.000 metri di profondità quindi ad esempio se ci sono molti organismi che hanno degli organi con cui fanno luce e quindi in quel caso conta molto il colore perché ci sono addirittura delle specie che si sono adattate con colori particolari per non essere visti dalle lunghezze d'onda della luce dei predatori quindi lì il mondo della luce in realtà a 4.000 metri è interessantissimo perché poi anche la ricerca di partner la comunicazione tra organismi è una roba piuttosto affascinante quindi l'assenza di luce quasi completa anzi completa ma la presenza di dinamiche sociali e di predazione tutte immediate o quasi tutte immediate dalla luce e dai segnali chimici quindi è una roba abbastanza incredibile un bel mondo e con questo diciamo che possiamo concludere questo argomento che Giulia ha detto che era breve ma poi è colpa mia ve li faccio domande e quindi lui si espande e lasciamo la parola a Fabio per raccontarci meglio di questi sistemi di sicurezza sulle funevie relativo ovviamente alla tragedia che è successa la settimana scorsa a Stresa di scientificast oggi alla luce anche della tragedia che è accaduta in Piemonte qualche giorno fa con la funivia che è crollata vorrei parlarvi un po' di quello che può essere l'approccio da un punto di vista ingegneristico quando si sviluppano e si mettono in opera dei dispositivi che possono anche essere molto pericolosi possono anche in caso di incidenti come appunto è recentemente successo provocare ingenti danni anche in termini di vite umane non meno mi viene in mente anche quello che è successo al Ponte Morandi qualche anno fa e quindi alla luce di questi due episodi estremamente tragici vorrei raccontarvi un po' che cosa vuol dire progettare un dispositivo come potrebbe essere una funivia ma anche per esempio un aereo un ponte un ascensore un carro ponte c'è tutti questi dispositivi che nel momento in cui hanno un cedimento meccanico possono andare origine a delle vere tragedie come quella che abbiamo appena recentemente potuto leggere sulle testate giornalistiche si parte dal presupposto che qualunque manufatto realizzato dall'uomo che sia in ferro acciaio titanio fibra di carbonio alluminio o qualunque altro materiale strutturale è soggetto a un processo di danneggiamento il danneggiamento può essere di diversi tipi ce ne sono alcuni abbastanza ovvi e che portano immediatamente al riconoscimento di un stato di pericolo o di disservizio del componente in caso di un urto se per esempio una bombola subisce un urto importante e si deforma viene chiaro a tutti la necessità di sostituire la bombola e che comunque potrebbe essere pericoloso tenerla ancora in quelle condizioni esistono anche dei danneggiamenti legati all'ossidazione cosa vuol dire che ovviamente i metalli hanno tutti una più o meno elevata propensione per la reazione con l'ossigeno e quindi si formano dei sali di ossigeno con l'ossigeno che sono normalmente molto teneri o fragili o addirittura si esfoliano e quindi vanno a togliere materiale resistente al componente ci possono anche essere le sovrasollecitazioni cioè un oggetto pensato immaginiamo che ne so una seggiola pensata per portare il carico di una persona quindi non so fino a 150 kg ce ne mettiamo 4 mi aspetto che questa sedia molto probabilmente si romperà e anche in maniera abbastanza istantanea quindi con una rottura molto molto rapida esistono però anche problematiche legate al materiale che possono portare a delle rotture un po' più subdole che sono per esempio delle imperfezioni nella produzione per esempio nel momento in cui si fa la saldatura di un componente potrebbe essere che la saldatura non sia continua non sia perfetta ci siano delle soffiature all'interno o il materiale non si sia fuso bene abbastanza da poter diventare omogeneo e in questo caso per esempio si usa spessissimo nella realizzazione di oleodoti piuttosto che di strutture portanti di ponti per esempio capannoni dove la struttura è in acciaio si eseguono normalmente delle radiografie che servono proprio per andare a individuare la modifica di densità all'interno della saldatura delle zone soggette a eventuali imperfezioni in modo da garantirne prima della messa in opera che il materiale sia conforme a quelle che sono delle prescrizioni e quindi si arriva anche a un altro punto che è l'ingegneria ha fatto grandissimi passi nella tecnologia da quando si è iniziato a costruire oggetti pensati per durare nel tempo per essere utilizzati per lungo periodo quindi parlo della rivoluzione industriale 1800 e si è scoperto per esempio che degli oggetti pensati per poter funzionare a livello statico con dei calcoli secondo quello che era la scienza dell'epoca potevano durare in eterno in realtà a un certo punto si rompevano questo accadde per esempio per gli assali dei treni ovviamente quelli erano i primi oggetti pensati per essere utilizzati per tantissimo tempo essere sollecitati molto tempo e quindi capitava che una progettazione statica dell'assale del treno non garantiva l'integrità nel tempo cioè non erano previste sovra sollecitazioni e non era stato calcolato tutto in modo che potesse resistere in realtà si notava che questi assali a un certo punto della loro vita si rompevano e quindi nacque una scienza che si chiama tribologia che tiene conto di quelli che sono gli effetti cumulati di sollecitazioni non dannose sulla singola applicazione ma che a lungo andare vanno a portare al componente a delle rotture che normalmente non sono prevedibili nel senso che l'oggetto fino all'istante prima di rompersi normalmente è integro non ha una deformazione ma è all'interno la struttura cristallina reticolare del componente noi comunque dobbiamo sapere che i metalli sono comunque tutti materiali policristallini quindi all'interno c'è una struttura cristallina e ci sono zone di interfaccia tra un cristallo e l'altro cristalli comunque di dimensioni microscopiche e quindi quello che succede è che a un certo punto i componenti si rompevano la scienza tribologica è stata in grado di trovare delle regole sulla base statistica di ricerche di una lunga storia di informazioni di prove sperimentali e ormai da tantissimo tempo in grado di analizzare calcolare e stimare quanto un componente soggetto appunto a fatica cioè a un ciclo continuo di sollecitazioni non rischiose ma comunque che hanno un effetto sulla struttura in modo da far sì che il componente si possa prevedere statisticamente quanto possa resistere prima di cedere di schianto quindi cedere a fatica fragilmente con una lastra di vetro e di conseguenza andare a prevedere delle sostituzioni piuttosto che delle manutenzioni ordinarie affinché il componente non si rompa mai ma venga eventualmente sostituito preventivamente in modo che comunque appunto non si vada mai in disservizio questa è una cosa che faccio per esempio anche io spessissimo nel motorsport i componenti strutturali della vettura come le sospensioni semiassi per esempio sono soggetti a fatica questo è più intuibile nel senso che un semiasse continua a girare viene applicata una coppia di trazione ci sono le sospensioni che li fanno scuotere li fanno flettere e quindi ci sono delle regole che vengono date normalmente dal costruttore che prevedono che dopo un certo numero di chilometri il componente debba essere sostituito anche se il pezzo sembra integro noi li sostituiamo proprio perché dobbiamo essere certi che il pezzo non si romperà mai durante per esempio una gara cioè l'affidabilità del veicolo è proprio legata al fatto di saper sostituire i componenti nel momento giusto prima che essi si rompano in maniera a quel punto fragile e chiaramente impediscono per esempio di finire la gara però chiaramente ci sono casi ancora più complessi dove per esempio e qui si può andare su una funivia per esempio dove la parte strutturale è una fune una fune di acciaio che viene realizzata secondo delle regole secondo delle normative e che può essere soggetta a ossidazione per esempio piuttosto che a questo fenomeno di fatica immaginate che una fune di una funivia corre lungo dei carrelli corre lungo la ruota principale di trazione che c'è alla base della funivia e in testa e quindi viene diciamo avvolta piuttosto che fatta piegare e quindi tutto questo produce dei micro danneggiamenti all'interno della struttura che sono noti ci sono delle normative che addirittura danno indicazioni chiare su come si deve fare a calcolare la dimensione e la tipologia della fune affinché questa fune possa fare il compito previsto quindi calcoli di carico sovraccarico effetto del vento e così via e esistono poi normative che prevedono delle ispezioni periodiche affinché la fune rimanga utilizzata sempre in condizioni di sicurezza e laddove si emergano delle problematiche anche in quel caso delle fune si fanno delle radiografie per esempio laddove queste radiografie indicano uno stato di diciamo di degrado del materiale superiore a una certa soglia la normativa prevede la sostituzione della fune ma è quello che avviene anche per esempio negli ascensori che molti di noi avranno nelle nostre case avviene anche per gli aerei le palle delle turbine piuttosto che gli alberi delle turbine piuttosto che tantissime altre componenti anche del carrello di atterraggio delle ali prevedono delle ispezioni periodiche e degli enti che diciamo supervisionano il tutto affinché venga effettuato tutto secondo delle regole pensate da chi ha avuto modo di sviluppare una conoscenza una scienza specifica e quindi si prende i giusti margini per essere certo che mai possa avvenire quello che in effetti però è successo recentemente allora a questo punto si arriva al lato umano quindi da un punto di vista ingegneristico sembrerebbe tutto perfetto noi siamo in grado io comunque sono un ingegnere strutturista di base siamo in grado di capire di prevedere di calcolare un oggetto affinché possa fare il suo lavoro per quanto tempo lo possa fare e quindi con anche dei coefficienti di sicurezza quindi non si arriva mai a un coefficiente 1 negli aerei per esempio un coefficiente di 10 cioè un pezzo potrebbe stare su 10 volte di più ma siccome un incidente aereo avrebbe danni estremamente elevati normalmente il coefficiente è 10 quindi noi sappiamo anche quando un pezzo e se deve essere sostituito quello che è successo invece a questo punto è chiaro che è stato l'intervento umano non si può entrare chiaramente nel merito di che cosa effettivamente si sia voluto fare ma è sicuro che laddove era stato pensato un sistema di sicurezza quindi nel malaugurato caso in cui la fune per qualche ragione anche se monitorata si fosse rotta era previsto un sistema frenante che tenuto aperto dalla fune stessa nel momento in cui la fune perdeva tensione permetteva una chiusura di questo freno sulla fune di sicurezza quindi anche qui l'ingegneria è stata pensata lo sviluppo il progetto della funivia le normative che comunque dicono come si deve progettare una funivia davano indicazioni chiare su cosa fare anche nel caso in cui l'impensabile potesse succedere ecco a questo punto l'impensabile è successo e qualcuno ha deciso invece di impedire di bloccare di non far funzionare questo sistema di sicurezza e quindi qui si arriva appunto come dicevo al lato umano si arriva al fatto che comunque alla fine la sicurezza di qualunque oggetto veicolo come dicevo prima un carro ponte un ponte autostradale piuttosto che una funivia un aereo la sicurezza reale è il risultato di quanto effettivamente la capacità la voglia umana è di applicare quanto è stato scritto quanto esiste e qui chiaramente si arriva ai casi grotteschi dove appunto non voglio entrare nel merito però ecco sappiate che qualunque oggetto che può essere potenzialmente pericoloso ha delle normative alle spalle che prevedono come andare a realizzarlo come andare a verificarlo come andare a tenerlo monitorato nel tempo quello che ci si augura che succeda e che si spera sempre che normalmente succede è che chi è deputato a fare le verifiche del caso le faccia correttamente ecco io questo vi volevo raccontare perché vedere succedere questi episodi da ingegnere fa venire veramente un po' un po' la rabbia oltre alla la tristezza per sapere di tutte queste vite spezzate restituisco la linea alla nostra regia e a presto ciao a tutti bentornati in studio è giunto come tutte le settimane il momento che tutti aspettate perché non vi interessa niente di tutto il resto che diciamo ovvero il momento della barza brutta che che dedichiamo a Ilaria questa settimana sì la dedichiamo a Ilaria perché è una barzelletta da non so da biologi vegetali siccome Ilaria ha avuto si può dire dei trascorsi sembra un po' brutto sembra un malfamato esatto dei trascorsi nel campo della biologia vegetale della fisiologia vegetale questa è una barzelletta un po' più da botanici sistematici però quindi vabbè vado vai vai sei sicura hai messo a letto seppia sì lui dorme già da mo' ok allora uno stame dice al pistillo mi piace il tuo stilo allora per risalvare salvare 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 salvabile diciamo facciamo anche la nota culturale esatto nel senso che gli stami sono le strutture che formano l'apparato maschile del fiore il pistillo invece è quello femminile contrariamente a quanto si potrebbe pensare perché il pistillo ti fa pensare a un altro sesso invece no è il femminile e lo stilo è una parte del pistillo quindi giusto per dare anche un po' di cultura hai visto la barza è diventata cultura beh sì un momento abbiamo quasi fatto diventare una cosa seria ci perdoneranno ci perdoneranno i nostri ascoltatori questo potrebbe essere potrebbe essere che non piace fateci sapere se questa barza culturale brutta ma culturale vi piace oppure se la preferite e abbiamo anche scelta tema sul gender perché poi in realtà appunto abbiamo detto maschile e femminile ma magari non si riconoscono in questo lo strano il pistillo e lo stile esatto potrebbe esserci anche un problema di gender col fiori è un casino se vai lì con le piante e fiori diventi matto col sesso vabbè ma adesso non apriamo troppe porte lo cereremo per le puntate future quando ci sarà Simone di nuovo una polemica anche su questo magari sulle piante e fiori il gender delle piante esatto sul sesso dei fiori ma si dice albero o albera va bene dai passiamo a qualcosa di direi diciamo di più serio pensavo più divertente beh per me è più divertente ma non so più divertente ma sì no per te sicuramente più divertente questo lo capiamo lo sai che sappiamo questo ormai questo problema che ho esatto a conoscere il tuo problema parliamo di virus persistenti che non se ne vogliono andare dal nostro corpo esatto virus persistenti che non se ne vogliono andare dal nostro corpo in realtà è un qualcosa che conosciamo abbastanza bene come a volte come ho scritto già un pezzo per il sito qualche anno fa un herpes per sempre ad esempio meglio dei diamanti meglio dei diamanti regalato un herpes non un diamante esatto quello dura tutta la vita ma sicuro proprio quindi quando pensiamo all'herpes labiale quando pensiamo però ricordiamo che nella famiglia degli herpes ce ne sono anche altri ad esempio anche il virus della varicella fa parte della famiglia degli herpes sono virus che sì mi prendo la prima volta perché mi contagio in vari modi però quei virus saranno sempre all'interno del mio corpo nascosti ben bene all'interno dei neuroni dei corpi neuronali e poi si possono riattivare o meno e infatti ad esempio la varicella chi ascolta magari dice ma la varicella la fa una volta sola sì ma lo zoster o il fuoco di Sant'Antonio non è altro che la riattivazione della varicella che ti fai da anziano quindi quelli sono casi particolari di virus che si sono talmente tanto adattati al loro ospite che volenti o nolenti siamo noi che riescono a non farsi eliminare mai completamente dal sistema immunitario dal nostro corpo e si reattivano periodicamente più o meno in maniera sintomatica e ci accompagnano quindi sì possiamo curare la parte sintomatica quindi quando abbiamo la vescicola sul labbro ad esempio però non siamo ad oggi in grado di riuscire a eliminarli in questi luoghi in cui stanno nascosti altri virus che sappiamo che rimangono con noi tutta la vita una volta che ci infettiamo purtroppo è il caso ancora dell'HIV tranne due o tre c'è pazienti che si contano sulle dita delle mani si dice sulle punte delle dita sulle dita di una mano se sono cinque se le dita delle mani se sono più di cinque puoi anche aggiungerci i piedi sulle dita delle mani dei piedi esatto come HIV perché si integra all'interno del nostro genoma e qua ne abbiamo già parlato un sacco di volte però poi ci sono dei casi un po' più forse direi particolari alcuni che bene o male stiamo imparando a curare quindi due casi particolari che sono un po' uno diverso dall'altro sono i virus dell'epatiti quindi l'epatiti stiamo parlando di epatite B ed epatite C che hanno nomi simili ma sono due virus completamente diversi perché ai tempi le hanno nominate solo in ordine di scoperta quindi hanno scoperto prima l'epatite A poi l'epatite B poi l'epatite C ma uno con l'altro non c'entrano niente tranne che ovviamente epatite perché infettano il fegato ora sia l'epatite B che l'epatite C possono dare infezioni croniche che durano per anni fondamentalmente soprattutto se non si interviene però hanno due strategie completamente diverse questi virus per riuscire a far durare un'infezione per anni quindi l'epatite B ad esempio ha un diciamo un meccanismo più di sto nascosto nel fegato o un genoma a DNA quindi normalmente sto nel nucleo e fa di tutto per non attivare il sistema immunitario in più ha anche un sistema abbastanza intelligente che cioè di nuovo i virus non hanno una mente non pensano però il sistema per rimuovere gli anticorpi che potrebbero bloccare il virus e impedirgli di replicare è quello di produrre delle particelle fatte all'esterno come gusci del virus stesso ma che non contengono niente quindi sono proprio un sistema per attrarre gli anticorpi circolanti farli legare un diversivo sì un diversivo è chiaramente un diversivo che però poi siamo stati cioè lui virus tra le volte furbo a attuare questa strategia ma gli uomini più furbi perché quando è stato scoperto questa cosa che veniva fatta quindi queste particelle vuote che venivano prodotte cosa è stato fatto e gli hanno detto ma io questa cosa la posso usare anche per un vaccino quindi se io prendo queste particelle vuote e le do stimolo se siamo immunitario perché gli anticorpi riconoscono quella particella vuota e il virus allo stesso modo ma quella persona sarà protetta ed è qui che nasce il vaccino per l'epatite B che funziona benissimo e che ha salvato milioni di persone nel mondo e invece c'è l'epatite C che poverino è un virus RNA non riesce a nascondersi così bene ma lui contrattacca in tutti i modi possibili il sistema immunitario e anche lui riesce a causare queste infezioni croniche ma per fortuna grazie alle ricerche degli ultimi anni siamo riusciti ad identificare dei farmaci molto efficaci anche molto costosi ma questa è tutta un'altra polemica in cui non dobbiamo entrare oggi e quindi stiamo riuscendo a curare le persone che avevano infezioni croniche ed apatite C perché in entrambi i casi uno dice vabbè sì ho il virus per vent'anni cosa mi interessa in realtà mi interessa perché se ho un virus nel fegato che rimane per decine decine di anni il fegato proprio bene non sta cioè non è proprio nelle sue condizioni naturali e quindi si possono poi avere dei problemi legati a queste infezioni che possono essere legati alla cirrosi epatica che poi può diventare anche tumori al fegato in cui appunto l'epatite B ed l'epatite C sono con cause con altri fattori quindi non sono l'unico fattore che può causare questi problemi ma sicuramente sono un grosso una delle cause nel mondo se bevi 12 pinte al giorno ovviamente quello peggiora le cose esatto esatto e però vabbè fino a qua tutti i virus tra virgolette noti cioè non c'è niente di nuovo sul fronte occidentale in realtà questa storia delle infezioni persistenti magari qualcuno ne ha sentito parlare anche adesso per SARS-CoV-2 ovviamente si arriva sempre a parlare qui perché si magari tante persone hanno avuto un tampone positivo per mesi o comunque per tanti giorni questo succede per settimane non è ancora chiarissimo quale sia la causa mentre altre persone possono avere un tampone positivo e poi la settimana dopo averlo già negativo e tutti essere appunto guariti ci sono però dei casi ancora più estremi in cui ci sono state delle persone che erano immunocompromesse quindi che avevano dei problemi al sistema immunitario e in questo caso si è visto si sono state trovate delle persone che sono rimaste positive al SARS-CoV-2 con virus presente realmente nell'organismo fino anche a sei mesi e questo vabbè in parte è collegato al fatto che il loro sistema immunitario non funziona bene e sappiamo che uno dei fattori che consente l'eliminazione del virus dall'organismo è proprio il fatto che il nostro sistema immunitario impari a riconoscere il virus e arrivi a controllarlo e a eliminarlo dall'organismo quindi ovviamente se manca questa azione del sistema immunitario è lì che il virus riesce a agire incontrollato e continuare a infettare il trattore respiratorio e poi sappiamo ormai che SARS-CoV-2 è in grado di diffondersi un po' in tutto l'organismo ma la storia più bella sempre tutto bello relativo nella mia mente bisogna sempre contestualizzare quello che dico bello scientificamente esatto viene da un virus che nessuno si aspettava fosse un virus persistente che è il virus dell'ebola e la notizia è di qualche mese fa mi ero ripromessa di parlarne ma poi è sempre successo qualcos'altro e quindi non ne ho più parlato e perché perché il virus dell'ebola normalmente tutti abbiamo tra virgolette sentito parlare di ebola come un virus che ha un altissimo tasso di mortalità normalmente devasta tutto l'organismo causa queste emorragie causa questo danno sistemico che poi porta alla morte il sistema di contagio tramite contatto anche un cadavere ad esempio di una persona morta per ebola è contagioso ci ricordiamo spero tutti dell'epidemia che c'è stata in Africa occidentale è stata la prima veramente grande epidemia che ha interessato Guinea Liberia e Sierra Leone e ne abbiamo ancora poi parlato perché c'è stata poi un'altra epidemia in Repubblica Democratica del Congo ma nel 2021 quindi parliamo di febbraio marzo ci sono stati dei nuovi casi di ebola di nuovo in Guinea e quindi per fortuna è stato poi un focolaio ristretto quindi se uno va sul sito dell'OMS vede che gli aggiornamenti sono gli ultimi aggiornamenti sono di febbraio quindi c'è stato un piccolo cluster un piccolo gruppo di casi ma la cosa sorprendente di questo piccolo gruppo di casi è il fatto che i ricercatori quando hanno visto questi casi ovviamente la prima cosa che fanno è di andare a sequenziare il virus una volta che si capisce che è ebola e andare a vedere quale dei ceppi di ebola è e anche capire vedere la sequenza ora quello che è stato fatto è stato di vedere la sequenza di questi casi del 2021 quindi stiamo parlando del 2021 isolati da questi pazienti e si è visto che in realtà le sequenze erano pressoché identiche a quelle del 2016 cosa vuol dire cioè se io penso che sia una nuova introduzione dal serbatoio animale all'uomo questo vuol dire che le sequenze possono sì essere simili ma dovrebbero avere delle differenze cioè il fatto che io trovi la stessa identica sequenza dopo cinque anni implica che in qualche modo ci sia la stessa la stessa persona lo stesso animale infettato e questo quindi l'unica spiegazione logica che tra l'altro hanno avuto tre diversi gruppi di ricerca è stato quello di dire questo piccolo cluster di casi del 2021 in realtà deriva da una persona sopravvissuta all'infezione del 2016 che ha sempre avuto il virus nel suo corpo e che poi l'ha trasmesso dopo cinque anni questo è interessante ma la percentuale però di sopravvivenza di Ebola è molto bassa no? ma in realtà era così per le prime epidemie passate poi con l'epidemia dell'Africa occidentale si è abbassata perché si è intervenuti poi anche meglio quindi mi sembra si è scesi intorno al 50% di mortalità quindi comunque e anche con dei numeri molto più grandi di persone infettate quindi il numero di sopravvissuti è aumentato considerevolmente sia per la dimensione dell'epidemia sia perché si è imparato come in tutti i casi a trattare queste persone ci sono state anche poi l'introduzione di farmaci e oggi ci sono dei vaccini efficaci però questo per dire che sì non sono tantissimi ma comunque il vaccino si è allargato molto dopo l'epidemia dell'Africa occidentale e tra l'altro si cominciava già con lo studio di questi pazienti che erano guariti ad esempio alcuni di quelli più studiati sono quelli che si sono infettati in Africa occidentale e poi sono stati quindi parliamo di medici o infermieri rimpatriati nei vari paesi europei o americani di origine in cui ovviamente sono stati curati ad esempio negli Stati Uniti e poi sono stati seguiti per molti mesi io personalmente ho sentito una conferenza di uno di un medico che si è contagiato con ebola non ricordo più mi sembra a Liberia e poi è stato curato e lui raccontava che a mesi dall'infezione aveva poi dei forti mal di testa ed è emerso come in realtà fosse ancora positivo al virus a quanto pare non infettivo cioè nel senso perché il sito di positività era retrooculare quindi questo per dire che già si sapeva che alcuni pazienti alcune persone guarite possono essere positivi al virus ma in siti anatomici molto specifici in particolare in particolare si parla di occhi quindi la zona dietro l'occhio retrooculare del sistema nervoso centrale in alcuni casi è stato visto anche positività nella placenta e il diciamo così il vero incriminato per questa trasmissione che è avvenuta nel 2021 è il liquido seminale quindi nel momento in cui sappiamo che ebola può persistere nel liquido seminale si pensa che questo è quello che sia successo in questi casi del 2021 quindi qualcuno quindi probabilmente un paziente guarito perché in realtà poi è stata fatta una piccola analisi epidemiologica e si è visto che la prima persona morta di questi casi in Guinea nel 2021 aveva avuto dei contatti con una persona guarita nel 2016 e si pensa che possa esserci stato un contatto sessuale e che quindi questa persona sia riuscita cioè abbia trasmesso ebola tramite contatto sessuale a quest'altra persona che poi ha dato origine a questo nuovo focolaio di per sé questo è ovviamente interessante nell'ottica di monitorare meglio i sopravvissuti a ebola anche per capire in realtà come si diffonde questo virus perché non abbiamo ancora un'idea chiarissima di quale sia il serbatoio animale e fino all'insorgenza in Africa occidentale ad esempio era un problema che era sempre concentrato nella Repubblica Democratica del Congo nell'Africa più centro-meridionale quindi avere avuto questi casi in Africa occidentale ha un po' scombustolato gli scienziati che stanno ancora in realtà stiamo ancora cercando di capire esattamente quale sia l'animale da cui viene però adesso aggiungere il livello di complessità che possono essere le stesse persone esteri serbatoi in dei casi particolari può aiutarci a capire meglio le dinamiche allo stesso tempo bisogna però soprattutto in un contesto come l'Africa non comunicare scorrettamente questi nuovi risultati perché può portare a stigma dei sopravvissuti di ebola quindi è importante far capire che sì magari queste persone sono positive ma l'unico mezzo di trasmissione probabilmente è soltanto la via sessuale quindi se anche solo basta ad esempio avere rapporti protetti o magari monitorare regolarmente queste persone a livello del liquido seminale ad esempio in generale quello di cui c'è bisogno sicuramente è di continuare a fare ricerche e di informare correttamente e poi ricordiamo che l'altra cosa per ebola importantissima che è cambiata negli ultimi anni è che adesso abbiamo sia degli antivirali efficaci sia due vaccini diversi approvati estremamente efficaci e che quindi è importantissimo identificare questi focolai sul nascere è interessante e insieme anche un po' terrificante nel senso comunque ebola storicamente almeno per la nostra generazione è uno dei virus più letali quantomeno poi vabbè non eravamo ancora prima dell'epoca diciamo di SARS-CoV-2 quindi non avremo comunque la letalità completamente diversa esatto la letalità è diversa ovviamente è molto più letale ebola come percentuali è un altro virus completamente diverso però prima della nostra pandemia se avessi dovuto pensare a qualcosa di virale che mi fa un po' paura avrei pensato a ebola perché è molto contagiosa e molto facilmente si diffonde molto velocemente e mi chiedo la strategia a questo punto sarà quella di mappare tutti i guariti in modo da capire oppure perché semplicemente il problema è che un guarito che ad esempio ha ebola supponiamo nella zona appunto retrooculare non contagierà nessuno a meno che insomma qualcuno non gli faccia il cucchiaio nell'occhio però diciamo quello è poco probabile quindi l'unico modo cioè ci deve essere la coincidenza di un paziente che è guarito da ebola e ebola si è annidato nel liquido seminale del paziente e ha un rapporto sessuale non protetto con una persona presumibilmente sana diciamo con una fetta da ebola in quel caso lì ebola da latente sviluppa l'infezione completa in realtà non sappiamo molto cioè questa sembra essere l'ipotesi più plausibile però sì sembra essere questa la via cioè è una carica virale sufficiente per far partire la malattia sì questo anche perché comunque il contatto cioè immaginare che sia un virus si trasmette tramite contatto già ti dice che basta poco per riuscire a mediare l'infezione cioè se io vado a un funerale tocco il cadavere mi infetto quindi già ti fa capire che non hai bisogno di grosse quantità di virus per scatenare l'infezione l'unica cosa da specificare è che non tutti i sopravvissuti hanno queste infezioni persistenti di nuovo il numero esatto non si sa ma si pensa essere una minoranza quindi e anche di nuovo in un contesto come con l'africano perché di fatto sono lì che ci sono le epidemie di ebola non è pensabile a livello di proprio di logistica di monitorare tutte le persone guarite però allo stesso tempo è appunto informare e magari avere rapporti protetti oppure nel caso in cui insorgano dei sintomi particolari fare in modo che queste persone vengano monitorate è già un qualcosa di più fattibile però ancora prima dobbiamo capire se veramente questo è un caso su un milione o quanto spesso può succedere quindi siamo agli inizi stiamo cercando di capire e tutti sono rimasti abbastanza sorpresi nel vedere appunto dopo cinque anni ricomparire questi casi in Guinea ma non così tanto sorpresi perché comunque in Repubblica Democratica del Congo a distanza di qualche mese era già successo qualcosa di simile ma in un tempo molto corto e quindi non ci si era allarmati così tanto tornando al punto quindi bisogna saperne di più e sicuramente trovare il modo giusto di informare la popolazione che comunque tra l'altro dare un messaggio di avere rapporti sessuali protetti va bene non solo per l'ebola esatto è un buon consiglio in generale e direi che su questo buon consiglio cara Valeria possiamo avviarci verso la conclusione dell'episodio 358 se non sbaglio il numero corretto è corretto molto bene quindi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda suggerimento o per dirci che siete come è successo recentemente diventati dipendenti se avete ascoltato 200 puntate nell'arco di un mese o di due mesi come è successo realmente di recente sul gruppo Telegram potete scriverci alla nostra email info.scientificast.it potete leggere vari nostri contenuti su www.scientificast.it in cui continuiamo a pubblicare salto oriamente ma magari adesso ci impegneremo e scriveremo molto di più anche altri contenuti interessanti ci potete trovare su facebook come scientificast su instagram come shecast e poi c'è il mitico gruppo Telegram in cui ci sono più di 900 iscritti e in cui potete provare a fare le vostre domande e magari qualcuno vi risponderà vi ricordiamo del gruppo Telegram che ovviamente noi chi più chi meno non riusciamo comunque a seguire assiduamente il gruppo ma se ci taggate con la chiocciolina davanti noi di solito rispondiamo in tempi ragionevoli quindi se volete anche insultarci specificatamente oppure chiederci approfondimenti magari di quello che avete sentito anche nel podcast è un buon metodo per comunicare in modo facile e veloce direttamente con uno di noi ovviamente sputtanandoci di fronte a tutti se abbiamo detto qualche cazzata ma è giusto così è giusto così pubblico come si dice pubblico ludibrio quindi ci alla prossima puntata ci salutiamo e buon inizio estate speriamo ma l'estate inizia a fine giugno e beh ormai per me è già iniziata l'estate maniche corte e pantalocini corti per me l'estate è iniziata buon inizio giugno buon inizio della bella stagione si può dire sì sì dai ma va bene va bene te lo passo sentiamo ok meno male che me lo passi e ci sentiamo ancora quando farà ancora più caldo ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti